Dottor Angelo Trigona, direttore del Dipartimento di Scienze Radiologiche dell'Aspi di Agrigento. Ecco oggi un incontro qui a Canigatti dove si parla di metinimaging. Cos'è il metinimaging? In poche parole diciamo che si tratta di una combinazione diagnostica e terapeutica clinica di medicina e di radiologia. Cioè praticamente mette a confronto delle branche specialistiche, in particolar modo il clinico e il radiologo per raggiungere la diagnosi e la corretta terapia del paziente. Medinimaging è un acronimo che sta a significare medicina interna e imaging, quindi medicina interna e radiologia. È un evento abbastanza singolare se non inedito perché forse per la prima volta si incontrano due discipline apparentemente distanti per formazione e anche per organizzazione interna ma che in realtà ogni giorno convergono sul malato. E quindi abbiamo pensato che un confronto tra internisti e radiologi, in questo caso sulle patologie del torace, possa essere un momento di crescita per entrambe le discipline. Dico in questo caso perché la nostra ambizione o presunzione è quella di ripetere Medinimaging anche nel futuro su tematiche diverse da quelle che trattiamo oggi. Onorevole Pullara, ecco come valuta questa iniziativa qui a Canicattito che si parla di patologie del torace, medici, internisti e radiologi a confronto? Beh, devo dire assolutamente positiva perché oggi la nuova linea della medicina è quella dell'approccio interdisciplinare ed evidentemente il riuscire a mettere diversi professionisti con diverse sensibilità attorno a un tavolo per lo studio del paziente di una particolare patologia è chiaramente un fatto positivo di cui possono beneficiare A, i medici chiaramente e i professionisti che in un certo qual modo innalzano la propria preparazione B, i cittadini, ma direi il contrario A e B, i cittadini perché da un approccio di questo genere possono avere una sicurezza di essere curati al meglio e senza dover girare per vedere da un posto a un altro la mobilità e quant'altro che in termini di costi sociali è un suo valore. Dico assolutamente positiva e ne va dato il merito ai due organizzatori, al dottore Angelo Trigona e al dottore Giuseppe Augello. Dottore Benuti, intanto come valuta questa iniziativa fatta qui a Canigati, un momento di incontro? Di grande interesse perché si mettono insieme professionalità e discipline diverse, ma la medicina di oggi è fatta di professionalità e discipline diverse che si incontrano e che mettono insieme le competenze e le peculiarità di ogni professionista perché i casi clinici sono complessi e una componente fondamentale è fare una ottima diagnostica per impostare bene la terapia. È fondamentale sia la parte radiologica sia oggi una seconda componente fondamentale che è quella genetica per cui terapia mirata al caso clinico e terapia che nasce in maniera determinante dalla capacità di fare un'ottima diagnosi preventiva quando è possibile e su dimensioni minime anche della parte anatomica, quindi grandissimo apprezzamento. Parliamo di questo interessantissimo convegno di oggi, c'è una novità, quale? La prima novità è che finalmente clinici e radiologi discutono assieme di problematiche che sono comuni ma spesso affrontate nell'ambito delle proprie discipline. Noi crediamo che la radiologia oggi debba essere uno strumento intesa come servizio ma come parte integrante di un percorso clinico assistenziale di eccellenza e i congressi di questo tipo evidentemente si inquadrano perfettamente in questo argomento perché verranno trattate tematiche che peraltro hanno una grande refluenza sull'aspetto sociale della nostra Sicilia perché alcune malattie croniche, parlo della fibrosi polmonare, parlo dell'interstiziopatia che verranno affrontate in maniera assolutamente completa hanno un numero molto elevato di pazienti e spesso centri di eccellenza non particolarmente qualificati. Lo scopo e l'obiettivo che ci proponiamo di fare insieme agli amici clinici e pneumologi è quello di identificare dei percorsi virtuosi per cui il paziente entra in circuito ne esce avendo fatto tutto quello che serve per il raggiungimento della sua diagnosi e quindi avere dopo successivamente una terapia che sia la più ottimale senza levare niente a Milano, senza levare niente al nord. Tressa Brunelli Francesca è radiologa e responsabile oggi dell'evento intanto perché le ragioni di questo incontro che vede tanti professionisti insieme parlare e discutere? Con il dottor Augello un giorno davanti a una tac torace abbiamo capito che c'era la necessità di incontrarsi affinché loro imparassero un po' della radiologia e noi un po' della medicina interna perché poi il fine ultimo è sempre comunque la diagnosi che sia fatta dal medico interno, dall'internista o dal radiologo questo è il nostro fine. Sicuramente non ci aspettavamo una risposta così ricca ci sono colleghi che vengono da tutta la Sicilia e non solo ci fa veramente molto piacere. Grazie a tutti.